Buongiorno amici cari, oggi ci troviamo alla stazione di Imer e da cui prenderemo il treno che si porterà a John Paul, la città bruna d'India. Vammonos! Per questo viaggio in treno abbiamo prenotato il vagone AC3, ovvero una sorta di sticker con l'aria condizionata e rispetto al punto classico-slipper è un po' molto più velocevole. Quando ci saremmo fatti bene le ossa sicuramente non mancheranno i viaggi nella General Class. Lo sappiamo benissimo che i treni indiani sono un bel casino da capire, le prime volte almeno. Se volete più informazioni possiamo fare un video dedicato ai treni indiani e scrivetecelo nei commenti. Che figata! Sembra di essere tipo in una città araba, vero? Finalmente dopo quattro ore di treno, mezz'ora vedi perché il tuttuk non voleva portarci qua, finalmente mangiamo! E che mangiamo? Io ho preso un curry vegetale e invece Andrea ha preso un... Ma c'è la panina? No, butter. Ah, ok. Questa mattina iniziamo la visita proprio in uno dei punti principali di Jotpur, ovvero Merangan Forte. Fu istituito nel 1458 e per svariati secoli fu residenza di Marajà e di Regnanti fino a che non è stato istituito come museo. L'ingresso al forte è gratuito, mentre l'ingresso al museo è a pagamento. È bello anche solo visitare il forte per la bellissima vista sulla città sottostante. Un tempo le case dei Bramiri venivano colorate di blu per differenziarsi dalle case delle famiglie di casta più bassa. Ora è diventata più una attrazione per turisti, dato che tutte le case sono colorate di azzurro. Il cuore apposante di Jotpur è il mercato di Sardar, che si trova attorno alla torre dell'orologio. Qui potrete trovare decine di bazar, negozietti di spezie e tè e banchi comini di frotte e verdura super colorati. Non mancheranno le insistenti tintazioni ad entrare e comprare qualcosa nei vari negozi, i clacson e mi raccomando, se attendete i vostri pieti sia per non essere calpestati o per non calpestare cose poco gradevoli presenti a terra. Un'altra attrazione da non perdere a Jotpur è il posto a gradoni di Tori Ka Zarra. Oltre ad essere una bellissima opera architettonica, offre spaccati di scene di vita quotidiana. Jotpur ci saluta così, con un meraviglioso gioco di colori al tramonto, dato dal contrasto dell'area rossa del forte con il blu del cielo e delle case. Le scimmie si rincorrono sui tetti ed è festa per tutti gli uccendi che ci volano intorno. Qualche clacson ci ricorda che tutta questa bellezza si trova pur sempre in India. Nuovo giorno, nuova avventura. Nuovo spostamento dalla città blu di Jotpur, ci spostiamo alla città oro di Jashalmer. Questo è uno sleeping bus, quindi qui ci sono delle cucette al piano superiore e piano sotto ci sono tutti quanti i sedili. È un mezzo abbastanza economico per girare qui in India e è una figata. Sicuramente aspettare di salire su, trovare la gente e iniziare a parlare un po' con tutte le persone che ci trovano è stradivertente. Qualcuno sta dormendo. Finalmente dopo quasi cinque ore di auto ci siamo arrivati. alla città oro, al Jashalmer e proprio qua di fronte a noi c'è la nostra guest house. Siamo cotti e molto affamati. Quindi andiamo a mangiare. Ieri sera alla fine eravamo troppo stanchi per farvi vedere quello che abbiamo mangiato e tutto il resto. E allora iniziamo la giornata questa mattina con la colazione dei campioni da questa fantastica terrazza. Guardate che figata. Iniziamo con un masara chai e un black tea. E continuiamo con un porridge alla banana e un mega pancake, banana e miele. Buon appetito! E siamo dentro la Gipro. Man mano che ci stiamo adentrando nel deserto Veltar andiamo ad esplorare questi piccoli villaggi che solitamente sono abitati da popolazione gipsi ma siamo una popolazione nomade e adesso non c'è nessuno. Veltar e adesso non c'è nessuno. Come va allora? Vieni dai, sto un po' facendo addosso però. Per dire nel deserto adesso è il mercato l'unico modo che abbiamo iniziato un tour organizzato qua dai local e l'unica cosa che vi consiglio di fare è di selezionare un attimo i vari safari e cercare quelli con i piumelli tenuti meglio che non vengono mai trattati e è un'emozione abbastanza unica. Era un piccolo sogno che avevo nel cassetto da tempo. Ci siamo fermati sotto questi alberi a Brazzare e abbiamo iniziato con un buonissimo ciaio ultra speziato e adesso stiamo mangiando una sorta di pasta fatta a patatina. e dopo l'aperitivo e il pranzo mangiamo noodle e verdure e prova piccante e ciapatti appena fatti. Come è andata con il piccante? Finalmente abbiamo mangiato piccante in India. Hello! 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 Dopo il pranzetto super top ora risaliamo in groppa ai camelli e raggiungiamo il posto dove prenoteremo questa notte. Sarà una figata! Andiamo! E niente, benvenuti nel deserto del tavolo. Dopo un paio di ore ad orso del promedario finalmente abbiamo trovato il nostro angolo di deserto per questa notte. Guardate che figata! Sì, è molto più facile da me. Sì, è molto più facile da me. Amici, questa notte dormiamo così, molto wild, poi tra l'altro è la prima volta che dormiamo proprio fuori fuori senza una tenda o niente, proprio così nel deserto, bellissimo, un'esperienza che consiglio veramente a tutti di fare. Peccato un po' per il cielo che si è annovolato un peletto e le stelle ci hanno un po' abbandonato, se no potevamo fare delle belle foto da via Latte, però c'è un'esperienza fighissima. Poi da giù le luci che ci sono, ci sono i confini con il Pakistan. Bene, allora buonanotte e ci vediamo domani mattina. Ciao ciao! Il tramandario di Andrea è molto incassato, sono andato a prenderlo, ma non vuole spostarsi da là. Jashalmer è anche chiamata la città dorata dell'India per via del colore delle sue case costruite in arenaria gialla. L'attrazione principale è il suo meraviglioso forte che sovrasse la città. Al suo interno vivono ancora qualche migliaia di persone ed è suggestivo perdersi nei suoi amicoli, ammirando i decori delle case e dei negozietti che vendono artigianato locale, commerzendo e stoffe. Bye Italy! Ciao! Aveli è un termine generico per indicare una casa cittadina tradizionale in India, Pakistan, Nepal e Bangladesh. Le Aveli di Jashalmer più famose sono tre ed un tempo erano di moro di ricchi commercianti. Il lago di Gadisar è un luogo molto popolare tra i turisti e soprattutto indiani. Vi consigliamo di venirci al tramonto ed aspettare il buio per godervi gli spettacoli acquatici. La sera avevamo un treno per Bikaner, ma un forte temporale ha trasformato le strade in fiumi e ha provocato un blackout generale costrucendoci a rimanere città per un'altra notte. Il proprietario della guest house ha insistito per farci rimanere offrendoci gratuitamente una camera. Un bellissimo gesto di cui saremo per sempre grati. Ragazzi, senza volerlo, facciamo la nostra prima esperienza in genere. Da Jashalmer a Bikaner per 2,60 euro in due. Per 5 ore di treno. Ci troviamo bene, dai. Però sicuramente sarà un'esperienza veramente forte da fare e che volevamo fare, quindi siamo anche contenti, ragazzi, di questa cosa. Vorremmo farlo tipo in un treno a 2 ore, ma vabbè, dai. Come ti ha mai stato? Io sono sconvolta dopo 6 ore in giro. La mia classe? Ragazzi, abbiamo preso un tuk tuk per andare verso la nostra destinazione, il nostro piccolo ostello. E siamo incasinati nel traffico, ma questa è la pura normalità in India. Grazie a tutti.